Boia, che debutta ha fatto Enzo Paolo Turchi, ragazzi, mamma mia, qua, io di round così non ho visti veramente, veramente pochi nella storia dell'UFC, cioè, è partito che ne stava prendendo tantissime da Verdamini, il quale è riuscito a colpirlo d'incontro, a fargli fare la chicken dance e sembrava che a un certo punto fosse finita. Dopodiché recupera sempre nello stesso round, inizia a farsi più pesante lui, finché non piazza una serie di combinazioni che demoliscono Luigi Verdamini e lo tramortiscono a terra con il conseguente stop. Ragazzi, veramente tanta, 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 tanta roba, un debutto, una roba così, ragazzi, è da McGregor, perché lui viene già con un pubblico di appassionati suoi e di fan che lo sannano e lo sostengono, viene già con una storia per chi è stato campione Cage Warrior e quindi comunque sia è riuscito a crescere per i fatti suoi in un'altra promotion, arrivando già come un buon prodotto e quindi, ragazzi, c'è poco da dire, questo lo dobbiamo tenere d'occhio perché lo vedremo spalmato ovunque e secondo me, se la gioca bene, può diventare un altro volto dell'UFC. Ragazzi, primo round tra Till e Branson, Till male, 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 Branson lo ha distrutto con il grande impauto a terra, anzi c'è da dire che è stato veramente coriaceo a rimanere vigile perché io avrei preso un cazzotto del genere e sarei morto, invece Darren Till comunque è riuscito a rialzarsi nell'ultimo fraggente del round, però comunque i danni sono evidenti. Altro round per Derek Branson pressoché identico al primo dove Darren Till per una serie di tentativi finisce a terra e dopodiché riesce ad alzarsi solo all'ultimo fraggente del round, ma comunque non incide. No ragazzi, pesissimo, praticamente Darren Till era riuscito a scuotere nel terzo round del Derek Branson, poi Branson si tuffa sulle sue gambe e riesce a portarlo di nuovo a terra e a quel punto lì si è visto proprio Darren Till un po' come dire rassegnarsi e è riuscito effettivamente poi Branson a imporre il suo grande impound, a far girare Darren Till di schiena e poi a sottometterlo con la amata Leao. Io per quanto mi riguarda credo che Darren Till sia tornato un po' meno combattivo di prima, mi sembra un po' meno in forma fisicamente e un po' più... Cioè l'ho visto rassegnarsi un po', quando è caduto a terra l'ultima volta sembrava proprio come dire vaffanculo. Ma a parte questo sicuramente c'è da sottolineare la grande prestazione del Derek Branson che ancora una volta si riconferma in vetta alla classifica e adesso stiamo a vedere perché potrebbero crearsi degli incroci interessanti. Detto ciò fatemi sapere quello che ne pensate nei commenti, sosteneteci se volete con una donazione al Patreon o un mi piace o comunque anche un commento o qualsiasi cosa volete perché tanto basta anche una sola interazione e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete la campanellina per ricevere le notifiche Un saluto da Time Fight Magazine, il più grande canale di MMA che parla italiano.